È un po' che rimando questo podcast perché in verità non sono stato dell'umore in questi giorni per poter lavorare alla recensione di un podcast di questo stile. Perché comunque un genere come il reggaeton, se tu te lo metti a criticare in un momento, in un giorno in cui magari sei un po' preso male, hai un po' i cazzi tuoi, finisce che magari fai la classica critica sterile buttata lì, sta musica non serve a un cazzo, musica di merda, testo di merda, eccetera. Io invece nutro un profondo rispetto verso il maestro Daddy Yankee, uno dei produttori più importanti del panorama internazionale, che poi lui si sia sviluppato facendo un genere che ha fatti concreti. Non è che abbia questo grande messaggio, ma che effettivamente parli dritto alle emozioni di chi si vuole lasciar trasportare, questo è relativo. Non stiamo parlando di musica di una qualità concettuale pazzesca, però stiamo parlando di un genere che è comunque il più venduto al mondo e ci vuole rispetto. Per questo motivo io ho pensato che era il caso di far passare qualche giorno prima di parlare di questo brano. Il reggaeton, come il neomelodico ad esempio, è un genere che non va capito con la testa, ma va ascoltato col cuore, perché è un genere che comunque estremizza il sentimento e quindi di conseguenza va ascoltato al momento giusto e bisogna essere in grado di lasciarsi trasportare. E così che ho fatto con questo brano. Abbiamo Daddy Yankee, abbiamo Anu Elei e Kendo Kaponi. Abbiamo insomma una triade abbastanza pesante, quindi di conseguenza ci vuole un attimo un po' di mentalità. E devo dire che questo brano, se lo vai a interpretare come va interpretato, stilisticamente parlando è una bomba. Non c'è nulla da dire. Questi sono tre signori che il microfono se lo mangiano, giusto per dire. Se poi vogliamo dire che non è la gasolina, che è il capolavoro di Daddy Yankee, non è sicuramente un brano che va a rivoluzionare il mondo del reggaeton o della musica in generale, come gente presente in questa traccia ha fatto, ok. Se vogliamo dire che c'ha un non so che di sentito e risentito nel genere, ok. Però c'è professionalità, c'è livello, c'è un discorso di mattatori sulla traccia, che sanno quello che stanno facendo, sanno quello che stanno raccontando e sanno cosa stanno provando, ok. Cioè nel senso qui la mancanza di cui parlano è chiara. Ovvio che di traccia e così ne hanno fatte e ne faranno. Ovvio che quando Daddy Yankee se ne uscì con calma si prese proprio tutto lui. E' ovvio che Daddy Yankee è un po' in calare ultimamente, questo c'è da dirlo. Però ragazzi il livello è alto, la qualità c'è. Ora sta l'ascoltatore decidere se voler criticare o lasciarsi trasportare. Se ti lasci trasportare sta canzone ha tanto da dire insomma. Quindi di conseguenza io do una recensione positiva, pur essendo un genere che non apprezzo molto, non approvo. Ma, ripeto, sono come le canzoni d'amore. Se non sei innamorato non ne puoi capire.